ok allora io oggi terminerei di vedere un paio di aspetti che ci mancano ancora sui diagrammi delle classi e poi farei un primo esercizio di applicazione di queste cose e poi la settimana prossima sarà dedicata sia nelle ore di laboratorio che nelle ore di lezioni diciamo di di aula fare esercizi sempre su questo argomento allora ci mancano ancora alcuni alcune specificazioni possibili sul tipi di associazioni che possiamo definire tra classi ieri dicevamo tra due classi può esserci un tipo di associazione e quando semplicemente tracciavamo una linea questa era la più generica possibile la più astratta possibile poi abbiamo cominciato a dire ma magari di questa situazione o anche posso anche identificare un verso una direzione posso anche indicare dei ruoli e aggiungo informazioni alle associazioni per specificarle meglio e restringerle via via specificare sempre di più creo delle relazioni più particolari meno generali ma più adatte al caso specifico i modi per applicare delle restrizioni in um ml alle associazioni sono molti noi qua citiamo quelli che useremo di più il più semplice che tra l'altro già conoscete perché vi arriva ci arriva diciamo così in dote dal corso di base di dati è quello della molteplicità molteplicità di una relazione indica il numero di occorrenze o distanze o di oggetti che con cui ciascun oggetto posto a un lato della relazione può essere rispettivamente all'altro lato della relazione cioè se ogni oggetto che si trova su un lato della relazione può essere in relazione con uno due tre quattro più eventualmente occorrenze di oggetti diversi che si trovano dall'altro lato della relazione è possibile specificare dei vincoli sul numero di oggetti che posso trovare dall'altra parte quindi sul numero di occorrenze diverse della relazione alle quali ciascun elemento della prima classe o separatamente ciascun elemento della seconda classe può partecipare vincoli che tipicamente sono vincoli tipo minimo massimo c'è un range un intervallo di valori minimo massimo che indica appunto il numero massimo di appartenenze numero massimo di volte in cui quell'elemento viene usato in quella relazione e vi è indicato con questa notazione molto semplice minimo puntini massimo questo esempio ci dice che c'è un oggetto macchina car automobile è un oggetto ruota è una un'auto monta delle ruote e questi numeri sono da leggersi guardando dall'altra parte del ponte vuol dire che ciascuna macchina immaginate questa è una classe no è fatta di tante istanze qui dentro ci sono tante macchinine e qui dentro ci sono tante ruotine la relazione mount è una relazione che in realtà lega la specifica macchina con la specifica ruota cioè quella ruota è montata su quella macchina e cosa indicano queste molteplicità indicano che una determinata specifica macchina può vedere delle ruote cioè può essere montata può essere collegata attraverso l'associazione con delle ruote il numero pari al massimo 4 ma il minimo 0 quindi questo numero visto su ruote sul lato delle ruote quindi bisogna so abituarsi a leggerlo significa che ciascuna macchina è un vincolo sul lato macchina in realtà quello che è il numerino che è scritto vicino a ruote dice che ciascuna macchina può montare da 0 a 4 ruote mentre invece se mi metto nella ruota la ciascuna ruota può essere montata qui sto definendo la relazione col verbo passivo perché la sto percorrendo al contrario della sua freccia ciascuna ruota può essere montata su 0 o 1 macchina cioè o è lì impilata oppure montata su un'auto la stessa ruota non può essere montata su due auto diverse quindi quando un'auto può partecipare in più relazioni monta con più ruote diverse fino a 4 una ruota può partecipare a una relazione monta con un'auto non con due in entrambi i casi queste relazioni sono relazioni di tipo opzionale perché il valore minimo è 0 il fatto che il valore minimo sia 0 è un modo diverso di indicare che la relazione è opzionale quindi il modo per leggere queste cardinalità è sempre questo immaginiamo di essere uno di questi e chiediamoci con quanti degli altri posso essere collegato vabbè questo è quello che abbiamo detto le cardinalità soprattutto nella fase specifica di solito salvo casi particolari derivati proprio dalla natura fisica degli oggetti ma tipicamente si usano solamente tre valori per specificare queste cardinalità in fase di specifica in fase di analisi come siamo noi 0, 1 o infinito infinito si usa un asterisco perché è molto difficile appunto dire il limite massimo è 7 o 4 dicevamo ieri come esempio un corso deve avere almeno 5 studenti dove arriva solo 5? non è un vincolo forte che deriva dalla natura delle cose l'auto massimo 4 ruote ma sì sì forse può avere senso dipende dal concetto che abbiamo di auto perché se il nostro sistema lo vogliamo poter concepire anche per veicoli di tipo diverso non necessariamente il limite è 4 magari abbiamo il furgoncino che è dietro alla doppia ruota e quindi siamo 6 e quindi spesso piuttosto che ipotizzare un valore un vincolo, la cardinalità troppo presto prima ancora di conoscere la specificità degli elementi si preferisce non mettere un vincolo superiore 1 punto asterisco vuol dire da 1 in su e quindi di fatto poiché indicare come massimo lo 0 indicare come minimo l'asterisco non ha senso rimangono 4 casi possibili che tipicamente si giocano il minimo può essere 0 1 il massimo può essere 1 infinito quindi vuol dire sto vincolando la relazione ad essere obbligatoria oppure no per uno dei due versi per ciascuno dei due versi della relazione è obbligatorio partecipare? sì no e se è obbligatorio è possibile partecipare più di una volta? o anche se non sia obbligatorio quindi il lato massimo ci dice in certo senso è vietato partecipare più di una volta nel caso in cui non sia infinito il lato minimo nel caso in cui sia 0 non sia 0 ci dice che è obbligatorio sono queste le due informazioni chiave che ci vengono veicolate dalla cardinalità poi in realtà 1 nella cardinalità nessuno vieta di scrivere 3 puntini puntini 7 ma sono casi che non si capita non capitano quasi mai a livello di specifico il vincolo principale che cominciamo a esprimere già da ora appunto l'obbligatorietà ossia un elemento non può esistere se non è collegato uno dall'altra parte ad esempio il fatto la classe persona e la classe città se la relazione è nato a o residente in quella può essere una relazione tipo obbligatorio per la persona quindi sul lato città avrà una moltiplicità minima pari a 1 nato a, anzi sarà esattamente 1 la moltiplicità dovrà essere 1 puntini puntini 1 una persona è nata in un luogo e deve esserci non può esistere una persona se non ha un luogo di nascita perlomeno nella realtà sicuramente anche nel mio sistema informativo non voglio poter inserire una persona che non sia collegata a un luogo di nascita perché se no vuol dire che ho informazioni incomplette di questa persona e quindi non ce l'ho la persona ho solo i frammenti di cose ma non posso ancora parlare di un oggetto persona se non ha tutte le proprietà che voglio che abbia quindi alla fine nella pratica la moltiplicità 0 puntini infinito non la si indica è quella che dice beh fate un po' cosa volete può esserci non esserci può esserci una volta più volte in quel caso non si indica nulla non si scrive mai 0 infinito è il default se non scrivo nulla non sto aggiungendo dei vincoli quindi la moltiplicità che si trovano sono 0 1 quindi una proprietà che può esserci o no se c'è, ce n'è una sola oppure 1 infinito che vuol dire obbligatorio ma oltre ad essere obbligatoria può essere anche molteplice oppure la 1 1 che dice beh deve essersene esattamente 1 come il discorso della città di nascita del luogo di nascita quindi la sintassi ci permette di fare ciò che vogliamo ma poi appunto i casi specifici poi essendo molto improbabile che noi conosciamo dei valori numerici effettivi da vincolare salvo casi particolari ad esempio se stiamo parlando dei giorni della settimana beh quelli sono 7 non è prevedibile o almeno nel futuro prossimo qualcuno decide di cambiare il numero di giorni della settimana allora quello è un numero che mi posso pensare di spendere a livello specifico perché quelli sono però in altri casi quindi se sono numeri che arrivano proprio dalla natura allora va bene perché tanto non dipendono da noi non dipendono dal sistema informativo dall'azienda eccetera sono quantità fisiche direi allora le possiamo usare altrimenti è troppo presto specificare dei valori vabbè qui fa vedere alcuni esempi in cui c'è un ordine vendita fattura dice che proviamo a leggerlo mentalmente quando un ordine questo può essere associato a una fattura attraverso l'operazione di vendita ma una fattura necessariamente dovrà essere associata a un ordine e a un solo ordine perché io ho un ordine ma non ho ancora fatturata perché non è ancora arrivata la merce non è ancora arrivata la fattura però l'ordine c'è già ma quando parlo di una fattura questa deve essere associata esattamente a un ordine e quindi questo deve essere associato esattamente a un ordine mi viene riassunto da questo 1 qua quando c'è l'1 un numero solo funge sia da minimo che da massimo quindi è come se fosse scritto 1 puntini puntini 1 esattamente 1 vuol dire mentre invece dello 0 1 significa che può esistere un ordine anche se non esiste dico io tra parentesi ancora la fattura corrispondente ma poiché il futuro non lo conosciamo devo dire se non esiste la fattura l'ordine ha senso di esistere questa sotto è l'esempio di prima una persona può essere residente residente in una città anzi deve essere residente esattamente in una città e una città invece può avere come residenti un numero imprecisato di persone anche nessuno perché io elenco la città del mondo non ho detto che tutte le città del mondo siano popolate dalle persone che sto rappresentando nel mio archivio un turista e un viaggio fa una prenotazione un turista prenota viaggio e in questo caso dice che il turista può prenotare un numero qualunque di viaggi anche nessuno anche più di uno e il viaggio per dirsi viaggio però deve avere almeno un turista iscritto se no non è non è un viaggio perché non c'è nessuno che sta andando quindi per poter parlare di viaggio devo avere almeno un turista iscritto quindi visto in questo modo questo pezzo di diagramma delle classi mi fa pensare a un viaggio in fase di organizzazione non un viaggio pubblicizzato quando pubblicizzo un'offerta di viaggio lì non ha ancora nessun turista iscritto poi quando si iscrive il primo turista comincia a parlare di viaggio organizzato di istanza specifica di quel viaggio che aveva offerto in generale adesso comincia a iscriversi delle persone quindi cominciano a fissare le date cominciano a fissare i costi e quindi è un'entità diversa un concetto diverso rispetto all'offerta alla pubblicità e beh questo diciamo così abbiamo riletto quello che già conoscevamo abbiamo infrescato un po' la memoria rispetto alle basi dati e sulle molteplicità altre due diciamo così specificazioni ulteriori restrizioni sul significato delle associazioni che citiamo qua sono una è l'aggregazione l'aggregazione è un tipo di associazione è rappresentata da questo quadrato messo in diagonale uno e due lati che dice che B è una parte di A cioè A è un'entità un oggetto B è un altro oggetto e B fa parte proprio di solito fisicamente oppure logicamente ma immaginiamoci oppure fisicamente è un componente di A la sedia è un pezzo dell'aula la cattedra è un pezzo dell'aula è una parte dell'aula allora c'è una relazione tra sedia ed aula una relazione tra cattedra è una relazione di contenimento di essere dentro di far parte di allora per anche visivamente rendere più evidente il fatto che la relazione è di questo tipo si usa spesso il simbolo di aggregazione poi a volte c'è anche un simbolo leggermente diverso che si chiama composizione che è un quadratino ma riempito nero quindi pieno in questo caso indica che A non è altro che la somma delle sue parti in questo caso un esempio dell'aula e degli oggetti che contiene l'aula in un certo senso ha un significato ha degli attributi ha delle proprietà anche in aggiunta agli oggetti che contiene mentre invece ci sono delle entità che non sono altro che ne so se io parlassi di un'entità che è la lista della spesa questa è composta di oggetti che sono la voce della lista ma oltre all'elenco delle voci non c'è altro nella lista della spesa è quella allora in questo caso oltre che di aggregazione oltre che dire la lista della spesa è l'aggregazione delle sue voci in quel caso si parla addirittura di composizione per dire è un'aggregazione e non c'è nulla di più non c'è null'altro che una semplice aggregazione allora chi vuole fare il pignolo parla di composizione e fa nero riempito il pallino il rombo per dire che è più forte altrimenti in aggregazione io so che contengo delle parti ma contengo anche delle informazioni al mio livello che non sono semplicemente la somma delle informazioni che provengono dalle mie parti se anziché la lista della spesa appunto parlassi di un ordine è vero che anche lì un ordine ha delle voci d'ordine ma poi l'ordine ha anche delle altre informazioni a livello di ordine che sono la data il fornitore il budget l'ordinante eccetera sono dei dati suoi che non sono dati che si possono prendere semplicemente dalle proprie parti sul campo fisico è più facile vedere le cose qui fa vedere che una auto è collegata a un motore collegata a dei pneumatici può essere collegata a un pd player e il tipo di collegamento il tipo di associazione è di tipo aggregazione appunto questi cosi sono queste altre entità sono messe dentro fanno parte di quando parlo di oggetto auto sto parlando di altri oggetti che non sono solo in associazione in qualche modo come dire l'auto è associata al venditore o al concessionario con la venduta questo è un tipo di associazione l'aggregazione è una associazione più forte perché dice che quando parlo di auto si porta dietro anche tutta un'altra serie di oggetti che ne fanno parte che poi lo descrivo separatamente perché mi servono ma comunque fanno parte del concetto di auto stiamo parlando ovviamente di istanze diverse c'è una istanza di auto che è collegata a un'istanza di motore che avrà tutte le sue descrizioni e attraverso questo dirò che è montata dentro proprio dentro quell'auto spesso avere un'aggregazione significa significa anche che la molteplicità da questo lato è uno spesso perché se dico che un oggetto è composto da un altro soprattutto nel caso di oggetti materiali l'oggetto che li compone cioè un motore non può essere messo in due auto diverse se l'auto è composta da un motore contiene un motore quindi sul lato sinistro qui la molteplicità non è scritta ma anziché leggere libera zero infinito tendenzialmente a quale leggiamo uno perché è un oggetto contenitore che ne contiene altri più piccoli ciascun oggetto più piccolo è contenuto dentro un contenitore la natura dell'associazione dell'aggregazione tu sei parte di me e quindi sei parte di un solo me non può essere contemporaneamente parte di due me diverse altrimenti che parte sei questo nel caso degli oggetti materiali nel caso invece degli oggetti materiali è un po' meno vero possono esserci dei casi più flessibili ci sono poi dei casi ma su questo non voglio spendere tempo in cui le associazioni sono più complicate nel senso che non basta solo dire A è associato a B attraverso qualche verbo attraverso qualche tipo di relazione ma il momento di associarsi si porta dietro dell'informazione in più qui fa vedere una relazione tra un consulente la classe di consulenti e la classe delle aziende e c'è una relazione lavora per consulente lavora per l'azienda e mi chiedo dove devo scrivere dove appartiene la conoscenza di quanto prende quel consulente sicuramente non è una proprietà dell'azienda che questa azienda avrà 12.000 consulenti e ciascuno lo pagherà una quantità una quantità diversa e lo stesso consulente anche non ha detto che applichi la stessa tariffa riesca ad applicare la stessa tariffa a tutti i clienti a tutte le aziende per cui lavora magari per alcune riesce a spuntare un pochino di più per altre invece spunta un pochino di meno quindi la tariffa della consulenza è una proprietà non del consulente non dell'azienda ma della relazione che si viene a creare tra quello specifico consulente e quella specifica azienda è una proprietà dell'occorrenza di una relazione allora questo come lo si rappresenta lo si rappresenta esplicitando di fatto facendo nascere da nulla una classe che è anche una relazione che è anche un'associazione vedete che si chiama nel stesso modo l'associazione e la classe perché l'associazione di per sé è solo un link l'abbiamo sempre descritta solamente come un link ma a sua volta questo link può avere delle proprietà quindi in quanto tale può essere classe anche lei può essere vista come una classe allora qui cerchiamo un pochino di barcamenarci nel senso che disegniamo una classe disegniamo un link e poi diciamo guarda che in realtà sono la stessa cosa sono due modi di vedere la stessa cosa però potendolo chiamare anche come classe posso dare degli attributi ad esempio che si applicheranno ad ogni occorrenza di questa relazione che non è molto diverso che spezzare la relazione in due facendo ponte su una classe ulteriore vera che in questo caso è stata chiamata contratto allora questo è un contratto che lega un consulente e un'azienda che lega un consulente con un'azienda e quel contratto ha un determinato costo c'è una stessa cosa sopra ce la siamo cavata in fretta sotto abbiamo creato un nuovo concetto ecco se questo concetto è importante nel nostro modello è preferibile questo perché possiamo agganciarci a altre cose se invece è marginale allora la versione di sopra è più rapida è più sintetica ci dice vabbè poi c'è l'informazione ma non pensareci più di tanto perché il focus della modellazione è da una parte sono equivalenti queste due notazioni fate solo attenzione alle molteplicità perché qui appunto consulente lavora per molte aziende consulente si traduce in consulente lavora per molti contratti ciascuno di questi contratti è fatto con un'azienda sola idem lato azienda quindi questo uno qui è vincolato al fatto che quando ho un contratto quel contratto è relativo a un consulente specifico e questo contratto può essere uno dei tanti contratti che una determinata azienda stipula ok appunto non entriamo nei dettagli di questo ecco l'ultima restrizione sulla situazione di cui parliamo prima di parlare all'esercizio prima di passare all'esercizio è in realtà la più difficile che è la cosiddetta generalizzazione o specializzazione oppure per chi di voi arriva da programmazione oggetti ereditarietà è quella che dice che un oggetto è un tipo particolare di un altro oggetto cioè io definisco una classe di oggetti che sia fatta di oggetti che ho già ma verdi ma che hanno qualche cosa di particolare in più di cui so dire qualche cosa di più dire qualche cosa di più significa che gli oggetti specializzati avranno potranno avere delle proprietà in più oltre a tutte quelle che hanno gli oggetti generici da cui derivano se io parlo di una classe mobile e poi dico il mobile può essere una sedia una sedia è un tipo di mobile una sedia è una specializzazione di mobile tutto ciò che vale quando parlo di mobile quindi il fatto che il mobile può essere in una stanza partecipa a certe relazioni il fatto che il mobile è fatto di un certo materiale quindi avrà una proprietà che indica il materiale il fatto che il mobile abbia un certo prezzo abbia un certo numero di inventario sono tutte proprietà che valgono per il mobile e anche per la sedia se la sedia è una specializzazione di un mobile quindi tutto ciò che vale per la classe generale vale anche sempre per la classe specializzata ma poi posso avere delle informazioni in più sulla classe specializzata ad esempio la sedia mi può dire quante gambe ha sotto 4 e se c'è seduto qualcuno sopra quindi se partecipa a una relazione esso è seduto con una persona la relazione esso è seduto non è propria della classe mobile non è che ci siede normalmente sopra gli armadi poi ciascuno che la propria quindi noi parliamo di classe generale e classe specializzata oppure di classe padre e classe figlio per indicare quella più specializzata e questo è il classico esempio di una persona che della quale conosciamo nome cognome e codice fiscale e poi c'è un impiegato un impiegato non è che una persona speciale è innanzitutto una persona ma oltre a essere una persona ha anche delle informazioni in più in questo caso avrà si spera per lui uno stipendio è uno studente anche lui una persona speciale nel senso che è una persona quindi ha tutte le proprietà che hanno tutte le persone del mondo e può partecipare in tutte le associazioni le relazioni che definiremo a livello di persona ovviamente ma in più ne ha altre sue allora questa questa si indica la relazione più forte diciamo anche che uno studente è una persona stiamo usando il verbo essere molto forte il verbo essere identifica dice che cosa sei tu non che cosa hai che cosa fai a che cosa sei collegato che cosa sei qual è la tua natura quindi dire che io sono un'istanza di studente automaticamente dice anche che io sono un'istanza di persona se dovessimo vederlo insiemisticamente l'insieme degli studenti è un sotto insieme dell'insieme più ampio di tutte le persone tutte sono persone alcune sono anche studenti ma non puoi essere studente se non sei anche persona e quindi tutto ciò che può fare una persona può farlo anche uno studente ci sono cose che uno studente può fare una persona generica invece no quindi è l'unica associazione tra classi che in realtà mescola le istanze è un po' particolare questo perché appunto un'istanza di studente in un'associazione come tutte quelle precedenti c'era un'istanza di questo che era in collegamento con un'istanza dell'altro troviamo due istanze diverse invece qui no qui stiamo dicendo che un'istanza di studente è anche istanza di persona non ho due istanze diverse che sono collegate tra di loro le identifico sono la stessa cosa in certi momenti li posso vedere come persone in certi momenti mi fa comodo vederle come studente come la sua versione più specializzata la freccia è il motivo per cui si chiama generalizzazione punta verso l'alto punta verso la versione più generale per cui se voglio vedere come può essere specializzata una classe devo andare controcorrente verso il basso in direzione opposta alle frecce leggiamola pure come è un leggiamola come verbo essere questa freccia qua triangolo bianco studente è una persona un impiegato è una persona con tutta la forza del verbo essere usato come identificatore poi poiché è molto importante questa relazione di solito c'è una terminologia associata quando si parla appunto di la classe sopra la classe sotto si parla di padre di figlio il padre è quello generale il figlio è quello specializzato si può anche parlare di superclasse quelle sopra o sottoclasse quelle sotto quelle più specializzate si può parlare di classe antenata cioè un padre oppure il padre dei padri o classe discendente cioè il figlio diretto oppure il figlio del figlio del figlio ci usa un po' la terminologia degli albi genologici per descrivere questo tipo di relazione relazione che tra l'altro è di tipo transitivo nel senso che se io sotto impiegato avessi dirigente che è un impiegato ma probabilmente ha qualche informazione in più tipo l'elenco delle persone che li dirige dirigente è un impiegato ed è anche una persona quasi tutto tanto anche se non c'è una freccia esplicita tra dirigente e persona lo è perché se io sono un impiegato sono anche una persona quindi è una proprietà che ha natura transitiva completa forte e questo è ciò che ci permette all'interno dei sistemi informativi di gestire in modo comune alcune parti in modo speciale altre adesso poi magari proviamo a vederlo negli esempi vabbè qui fa vedere un esempio di retarietà molto che la prende molto da lontano la prende delle specie viventi che possono essere animali o vegetali tra i vegetali ci sono i fiori gli esseri umani sono animali se vi è detto di leggere con il verbo essere quindi e tra gli esseri umani ci sono i venditori i clienti e i venditori potrebbero essere i venditori di fiori quindi poi ci sarà da qualche altra parte una relazione che se il venditore di fiori vende il fiore da quell'altra parte qui adesso qui chiaramente è un po' ampio faticherei a capire un sistema informativo quali operazioni può fare a livello di specie vivente certo lo possiamo sempre fare possiamo sempre ricondurci al tutto a una super 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 classe che si chiami tutto alcuni linguaggi hanno proprio predefinito una classe che si chiama spesso si chiama thing cosa qualunque cosa da cui tutti possiamo dire siamo un caso particolare io sono una cosa eh va bene una tenda è una cosa eh si va bene lo stesso siamo tutti delle cose va bene poi che informazione è associata con la cosa nessuna quindi si può sempre fare un esercizio di questo genere ma rischia di essere fine a se stesso nel momento in cui le classi più alte più astratte non hanno più rilevanza ai fini dell'operazione che il sistema informativo deve fare mi interessa il sistema informativo parlare di animali di esseri umani in generale beh di umani animali forse no di esseri umani magari chiamiamo persone questo sì perché mi interessa avere un livello per descrivere persone indipendentemente dal fatto che siano clienti lavoratori fornitori o altro allora questo livello mi interessa ancora probabilmente so che cosa scriverci dentro qui però è solo per farci vedere un esempio di un diagramma delle classi un diagramma di ereditarietà a questo punto lo chiamiamo o specializzazione verso il basso o generalizzazione verso l'alto o ereditarietà dall'alto verso il basso useremo questi termini ok questo lo lasciamo per la restituzione della settimana prossima quindi questo diciamo è il dizionario grafico con cui proviamo a costruire i modelli delle nostre modelli collettuali dei nostri sistemi informativi allora io per provare a fare un esempio insieme a voi anziché inventarmi qualche cosa io mi vado a prendere l'ultimo tema d'esame che è stato dato tanto così non si comincia mai troppo presto di fare temi d'esame e ovviamente lo andiamo a trattare vedete che dei temi d'esame una delle domande sono quelle di quest'anno sono formate leggermente diverse ma una delle domande è si definisce il modello concettuale e quindi questo possiamo già cominciare a farlo è quello l'ultimo quello di quando era 9 settembre ok allora leggiamo questo testo che ci descrive un caso applicativo di sistema informativo ipotetico semplificato a misura d'esame e poi proviamo a ragionarci ancora in modo parzialmente intuitivo poi la prossima volta ci proveremo in laboratorio faremo la situazione in aula così cerchiamo di saurire un pochino la metodologia allora dice le pronotazioni le permanenze dell'alberghiere seguono una lunga procedura quindi parlano di alberghi di prenotazione inizialmente il cliente esegue la prenotazione che può avvenire in due modi la prenotazione può avvenire dal telefono tramite un operatore del call center oppure la prenotazione può avvenire direttamente sul sito web dopo la prenotazione fino a una settimana prima della data prenotata è possibile cancellare la prenotazione senza alcuna penalità dopo tale scadenza è ancora possibile cancellare la prenotazione ma in tal caso viene adabitata una penalità l'eventuale cancellazione che sia prima o dopo la scadenza di 7 giorni può avvenire in uno dei due modi indicati sopra quindi al telefono oppure sul sito web il giorno della scadenza quando il cliente si presenta all'albergo l'addetto alla reception registra l'arrivo ed assegna la camera è possibile che il cliente non si presenti senza aver cancellato e in tal caso il sistema automaticamente registra un evento detto no show e addebita una penale al cliente tipicamente trattina la caparra oppure fa pagare la prima notte il giorno di fine della prenotazione quindi il giorno in cui l'utente se ne va il cliente si reca la reception ed effettua il check out che viene registrato dalla dettora reception a questo punto il sistema addebita il pagamento dell'intera permanenza al cliente è una storiella breve semplificata perché poi immaginate quanti casi abbiamo dimenticato il cliente che a metà si lamenta della sua camera non gli piace la vuole cambiare sceglierlo prima vabbè che attore qui sono descritte tante cose c'è un aspetto di processo c'è delle cose che avvengono in un certo ordine ci sono degli attori persone che interagiscono col sistema e ci sono dei concetti queste tre cose sono tutte mescolate ovviamente tra di loro noi dobbiamo fare lo sforzo di separarle e oggi ci dobbiamo occupare dei concetti quali sono i concetti che vengono maneggiati da questo sistema e quali sono le informazioni associate a tali concetti e le relazioni che avvengono tra tali concetti e dobbiamo farlo sapendo che cosa succede ma non lo stiamo non andremo a rappresentare che cosa succede chi fa che cosa il fatto che le cose vengono fatte via web o al telefono non ci interessa parlando di modello concettuale ci interesserà sicuramente parlando poi di modello operativo di flusso dell'operazione assolutamente di attore nel senso che un conto è se la protezione la fa l'omino che risponde al telefono un conto è se la fa l'utente che si collega al sito allora sono due modi diversi di fare le cose ma il come faccio le cose ma neanche che cosa faccio in questo momento non mi interessa mi interessa quali sono i concetti le informazioni su cui si dovrà reggere il sistema informativo di questo albergo e allora vado a cercare le parole questo è già scritto in modo facile è scritto in modo facile perché non mi pare di trovare dei sinonimi nel senso che il cliente è sempre chiamato cliente ad esempio e la camera è sempre chiamata camera perché invece se uno perché chi ha scritto ha già fatto attenzione a questi aspetti in esame ma nei casi reali come vedete nella prossima delle esercizioni il primo ostacolo è quello di identificare quali sono i termini che hanno significato uguali da quelli che hanno significato diverso cliente utente è la stessa cosa? camera e stanza sono la stessa cosa? forse sì ne siamo abituati ci hanno insegnato a fare temini che è brutto ripetere tante volte le stesse parole vai a cercare un sinonimo però poi quando devo poi rappresentare il sistema informativo e trovare il concetto astratto a cui mi riferisco ne devo scegliere uno ma in questo caso mi sembra proviamo un po' a vedere quali sono i concetti su cui il sistema informativo dovrà lavorare eh l'ho già detto uno cliente sicuramente sarà una delle nostre classi devo parlare del cliente devo rappresentare i dati del cliente devo sapere se il cliente in questo momento ha una camera pronotata oppure no giusto? ci sono le camere che sono il motivo per cui l'albergo esiste allora qui si chiama cliente la camera compare solamente qui che è giusto nel senso che nel momento in cui voi fate una pronotazione ad un albergo non vi viene data o meno non vi viene non viene decisa nel momento della pronotazione qual è il numero di camera in cui sarete questo lo decidono l'ultimo giorno sul momento tipicamente la sera prima fanno le camere per il giorno dopo no? perché magari per ottimizzare no? l'uso delle camere se vi danno già quella camera lì magari quella camera lì serviva perché c'era una persona che andava via il giorno dopo e quindi se vi spostassero in una camera diversa con la vostra permanenza riuscirebbero a incastrarvi meglio quindi vi danno voi prenotate una tipologia di camera due letti quattro letti fumatore non fumatore eccetera loro ovviamente devono garantire che ci sarà una camera disponibile almeno una di quella tipologia ma poi quale sia il numero normalmente lo sapete quando arrivate sul momento o al massimo dovete telefonare il giorno prima per poterlo negoziare ma non fa parte della prenotazione fa parte dell'assegnazione che è una fase diversa poi quali sono le altre gli altri termini gli altri concetti su cui lavoriamo non c'è prenotazione direi prenotazione addirittura l'hanno detto prenotazione prenotazione è questo qua il best seller prenotazione 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 e poi c'è un altro concetto che è la permanenza la permanenza che è quello che diciamo così nasce nel momento in cui io mi presento e termina nel momento in cui esco che è una cosa diversa dalla prenotazione è se vogliamo l'espletamento di ciò che avevo prenotato la metto questo lillino terribile scusatemi questi mi sembrano i concetti principali poi ce ne sono altri però vediamolo andiamo diciamo con i cauti nel senso che qui parla di penale sì allora la penale è un oggetto sestante o è una proprietà della prenotazione probabilmente è più una proprietà è un valore associato con la prenotazione lì non è una cosa che vive di vita sua non è che parla la penale penale di chi rispetto a che cosa scusa allora come proviamo proviamo a rappresentare quindi questi quattro concetti principali mediante classi e poi chiediamo quali sono le informazioni associate e quali sono le relazioni tra questi ed eventualmente gli attributi di queste informazioni nel farlo non possiamo non farci degli esempi su come funzioneranno le cose quindi non fare degli esempi o fare almeno dei ragionamenti sul flusso delle operazioni e sugli attori che condurranno questo flusso ma poi nel modello concettuale non rimangono più è chiaro che il modello concettuale sarà coerente con una certa visione che avevamo in mente del processo quindi sarà coerente col processo quando impareremo a disegnarlo e da sola non c'è un modello concettuale giusto e uno sbagliato sono modelli concettuali che non sono coerenti beh può esserci sbagliato perché magari sono degli errori logici ma se no il risultato finale di tutti questi esercizi è sempre libero sempre aperto sempre sia qua che all'esame ovviamente perché dipende come uno imposta il ragionamento la proprietà principale che si va a cercare è la coerenza di ciò che si fa allora per disegnare queste cose noi useremo voi useremo anche in laboratorio un programmino ci sono vari programmi dal gratuito al pagamento a quello che si pianta ogni 3x2 a quello che invece è utoprofessionale eccetera che supportano i progettisti gli analisti nel creare diciamo così disegni diagrammi uml alcuni sono strumenti di puro disegno quindi non capiscono niente hanno le forme dell'uml ma un po' come vision un po' come powerpoint non capiscono cosa stai facendo altri sono strumenti addirittura di generazione automatica del codice per cui tu disegni le tue classi e poi lui ti genera ad esempio il codice java o c-sharp che corrisponde alle classi che hai disegnato e addirittura andando avanti e indietro nel senso che se modifichi la classe ti va a modificare il diagramma o cose di questo genere quindi tra questi due spettri estremamente tra questi due estremi estremamente differenti dello spettro dal disegno puro a di fatto integrato con la programmazione ci sono degli strumenti che hanno le capacità intermedie alcuni magari appunto come allora ti danno alcune funzioni gratuita altre a pagamento l'anno scorso abbiamo fatto un minimo di scouting abbiamo provato un po' di questi tool e ne abbiamo trovato uno forse poco noto anche perché è difficile dire il nome che ha in forma gratuita le funzionalità che servono a noi non altre ma quelle che servono a noi sì quindi allora quello che troverete in laboratorio e potete tranquillamente anche scaricarvi e installarli è Asta Community c'è una cosa che ovviamente si scarica è un applicativo scritto in Java ma quando qui c'è questo Asta H.net quando date lo scaricamento scaricate la versione community non quella profession non quella a pagamento quando la installate vi installerà il programmino poi vi chiede se volete anche installare la A.jr la macchina virtuale Java se avete già Java installato sulle macchine perché magari avete fatto un corso di programmazione è inutile reinstallare Java e altrimenti invece non installa lui nel dubbio il massimo vi mangia un po' di mega di disk e questo ci permette di creare dei progetti all'interno dei quali creare dei diagrammi e qui ci sono varie tipologie di diagrammi diagramma delle classi diagramma dei casi d'uso macchina stati diagramma delle attività diagramma delle sequenze eccetera eccetera questi sono disponibili anche nella versione community gratuita questi invece sono come vedete sono disabilitati sarebbero disponibili solamente nella versione a pagamento a noi serve partire dai diagrammi delle classi creiamo un nuovo diagramma delle classi e mi viene presentato un foglio bianco in cui posso andare a disegnare le mie classi che sono rappresentate ovviamente da questi scatoline tra scomparti la classe la prima classe abbiamo detto che è il cliente la seconda classe che mi interessa era la prenotazione giusto poi cosa avevo la camera e la permanenza camera permanenza queste quattro presentazione permanenza cliente camera quindi abbiamo qui questo pkg nell'angolino dice che queste classi lui le sta definendo in un package generico non interessa se queste classi dovessimo domani far diventare classi linguaggi di programmazione per cui dividiamo in package o in gruppi anche gerarchicamente interni dati guardate a sinistra cosa è successo a sinistra ha creato degli oggetti structure all'interno del progetto ha creato un oggetto di tipo diagramma che è questo disegno e poi quattro oggetti di tipo classe che sono la camera cliente la permanenza la prenotazione se noi creassimo possiamo anche farlo un altro diagramma delle classi in cui far vedere un'altra parte noi potremmo riusare gli stessi oggetti perché magari per far vedere un'altra parte del sistema informativo gli stessi oggetti che avevo già definito nel primo diagramma cioè questi oggetti sono oggetti che fanno parte del modello non fanno parte del disegno io quando creo un oggetto nuovo creo innanzitutto un oggetto a livello di modello concettuale e poi lo piazzo graficamente su un diagramma quando faremo il diagramma delle attività vedremo che gli stessi le stesse classi saranno quelle che agiscono gli oggetti del modello sono sempre loro sono condivisi tra i vari diagrammi i vari diagrammi sono delle viste diverse alcune statiche di dato altre di processo eccetera su oggetti che sono gli stessi che sono condivisi qui facciamo attenzione ad esempio quando facessimo un altro diagramma a non creare una nuova classe e chiamarla di nuova camera in questo caso per fortuna se ne accorge però il modo giusto non è quello di creare un nuovo oggetto con lo stesso nome ma è quello di questo caso di trascinare una nuova vista di quell'oggetto che già ho così come è molto diverso cancellare un elemento quando dici voglio cancellare questa camera vedete che il delete ce ne sono di due diversi cancella dal modello cancella dal diagramma cancella dal diagramma e me la cancella da qui ma la rimane mentre classe 4 voglio che me la cancelli proprio dal modello e quindi scomparre dal modello e ovviamente a tutti i diagrammi che la usavano quindi noi usando gli artefatti grafici cioè dei diagrammi stiamo gradualmente costruendo un modello che dà invece l'informazione che ci serve class diagram 0 op là vediamo di un nome che sia più furbo del class diagram 0 class diagram albergo trattazione ecco sui singoli oggetti cosa abbiamo qua sotto come sempre ci fanno vedere tutte le possibili proprietà che possiamo dare sugli oggetti per ciascun oggetto possiamo andare a riempire gli attributi o le operazioni cliccando sugli attributi sul pallino giallo per l'operazione sul pallino verde che ci aggiunge una nuova riga noi le operazioni non ne vogliamo non le abbiamo quindi le possiamo cancellare non le useremo mai nel nostro modello concettuale gli attributi sono i dati di cui siamo a conoscenza e che vogliamo che siano rappresentati quindi ad esempio il cliente l'informazione che avremo sarà il nome cognome nome di questa persona quando uno prenota deve dare il nome giusto quindi avrà un attributo che sarà il cognome di tipo fare una stringa il nome clicco sul giallo me ne dà uno nuovo nome posso anche scriverlo qua direttamente due punti string e posso andare a riempire le proprietà che sono qua sotto oppure scrivere direttamente qua e poco altro perché al lato della pronotazione poi ho le pronotazioni poi ho le pronotazioni diciamo che il secondo oggetto importante era quello della pronotazione la pronotazione che cos'è? è qualcosa che innanzitutto è legata a un cliente non esiste una pronotazione se non un cliente che pronota e poi ha delle informazioni di suo che sono se non altro la data di inizio la data di fine e il tipo di camera meno di così non riesco a immaginarne e sì forse anche il prezzo offerto pronotato per offerto quindi la pronotazione avrà sicuramente abbiamo detto la data di inizio che è una data la fine che è una data in questo tool ci suggerisce di usare i tipi di dato del linguaggio java tanto a questo punto siamo a livello di documentazione non ci interessa ma visto che già ci sono tanto vale a usarli piuttosto che inventarci negli altri poi abbiamo detto che inizio a definire tipo camera e qui è un po' più difficile non ho un tipo predefinito forse sono i tipi della camera boh ci pensiamo tra un attimo sicuramente l'informazione che ci serve non è sicuramente un intero come dice lui sarà un elenco tipi camera o qualcosa del genere e poi inizio tipo tipo camera e abbiamo detto l'importo il costo che è una valuta un valore tipo valuta dimmi non ho capito scusa no la permanenza non è la permanenza in giorni questa questa entità qua rappresenta le informazioni sul fatto che la persona sia andata lì e dorma nella camera 3 ok se c'è o meno perché io potrei avere una prenotazione che poi viene annullata oppure la persona non arriva e quindi non corrisponde a una permanenza effettiva ok non rappresenta il numero di giorni di permanenza il numero di giorni di permanenza ovviamente la differenza tra queste due date è meno uno allora relazione tra cliente e prenotazione quali sono? e beh che un cliente allora come creo le relazioni lo posso fare o prendendo questa freccia qua che è association oppure un sottotipo dove qui abbiamo le nostre care aggregazioni o composizioni questa è in realtà una relazione normale posso anche andare a prenderla direttamente che bravo evidenziando la avvicinandomi a uno dei lati della classe compare già l'invito a creare una relazione se io clicco sulla frecciolina che ci sono a fianco mi fa cambiare il tipo di relazione che voglio se no parto con questa che è una relazione semplice la tiro verso la frontazione e lui l'aggancia questa è una relazione su cui poi posso andare a modificare i ruoli posso andare a scrivere i ruoli o le molteplicità la molteplicità la voglio specificare nel senso che la prenotazione ha senso se c'è almeno un cliente quindi da questo lato anzi esattamente un cliente da questo lato la molteplicità vedete qua mi fa già vedere solamente i tipi che hanno le combinazioni di valori che hanno un senso quello che dicevamo prima esattamente un cliente uno mentre la molteplicità da questa parte dipende da come definiamo cliente se definiamo cliente è una persona che abbia fatto almeno una prenotazione oppure può essere nel nostro database clienti anche se non ha ancora fatto nessuna prenotazione in realtà se non ha fatto nessuna prenotazione mi chiedo come faccio a conoscerlo quindi sarei del tipo uno infinito uno di sicuro poi speriamo anche di più e poi diamo un nome a questa relazione che potrebbe essere prenota poi volendo qui ci sono tutti altri proprietà che potete andare a mettere sul lato A come i vincoli sul lato A i vincoli sul lato B la forma della freccia sul lato A B eccetera ma veramente ci servirà ad entrare così fine poi cosa abbiamo ancora la permanenza allora qui abbiamo fatto la prenotazione la prenotazione nel momento in cui potremmo anche volendo dire mi viene in mente adesso la data in cui la prenotazione è stata fatta oppure no di solito si per sapere chi ha prenotato prima chi ha prenotato dopo litigate eccetera dopodiché a un certo punto arriva la data di inizio alla data di inizio può succedere può succedere che l'utente si presenti e quindi prenda possesso della camera e quindi avvii una permanenza oppure può succedere che l'utente non si presenti e venga comunque addebitata alla penale oppure prima della data di inizio invece la prenotazione può venire annullata può venire cancellata senza penali rimaniamo così per ora nella realtà nel senso che cancellare una prenotazione significa farla sparire nella realtà in un sistema informativo non si cancella mai niente mai in un database non si cancella mai delete dimenticatevelo perché serve sempre saperlo l'anno scorso quante prenotazioni avevamo che sono state cancellate ebbè lo cancellate bravo a livello operativo non ti serve più ma a livello manageriale sì e chi è che l'ha cancellata e non lo so cancellando la prenotazione si è portato via anche il nome quindi di solito ci sono dei campi di servizio booleani del tipo valido non valido cancellato non cancellato che ci permettono di andare a così mantenere registrata la prenotazione anche se poi non la consideriamo più valida ma vabbè questo è un dettaglio dicevamo all'inizio della prenotazione se la persona arriva di fatto inizia un periodo di permanenza qui c'è una relazione forte tra permanenza e prenotazione che dice che una permanenza è associata esattamente a una prenotazione cioè quando quella prenotazione entra in essere arriva la persona e quindi attraverso questo è arrivato il cliente non mi serve una relazione tra permanenza e cliente perché la permanenza è associata esattamente con una prenotazione quella prenotazione è associata esattamente con un cliente quindi ci arrivo direttamente mentre invece la permanenza può esserci o non esserci relativamente alla prenotazione perché se la prenotazione si esplica se la persona arriva allora ci sarà la permanenza anche se no e questa in questa permanenza che cosa vado a scrivere vado a scrivere se non altro il fatto che la persona è arrivata ma questo dovrei già sapere la persona a quale stanza occupa quindi sicuramente gli posso dire che camera gli ho dato che è un oggetto di tipo camera in quale camera ti ho messo e che ne so quanto hai preso dal minibar no? cioè dati informazioni in più che nascono nel momento in cui tu vivi la tua permanenza quindi dal minibar hai preso determinati soldi hai fatto o non hai fatto colazione devo debitarti delle cose cioè cose che mi servono per poi gestire la tua permanenza e alla fine fatti il conto quindi la camera ovviamente è associata alla permanenza e ti devo dare una camera quindi una permanenza è collegata a una specifica ben precisa camera mentre una camera ovviamente potrà essere usata per più permanenze diverse quindi beh qui non c'è nessun vinco da uno infinito cioè la camera potrebbe anche teoricamente non essere usata mai oppure essere usata più volte ciò che noi sappiamo della camera l'abbiamo deciso prima in fase di 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 io ho un elenco di camere che da che cosa identifico c'è su una camera la identifico col suo numero ad esempio il numero di camera la camera di 13 e dal tipo la camera 13 è una camera due letti non fumatore che fa parte dell'elenco del tipo delle camere che avevo definito prima quindi prima mi ero inventato un tipo di oggetto a questo punto lui lo conosce addirittura se andiamo a vedere lui mi ha creato qua una classe elenco tipi camere per te ho capito che esiste nella tua testa un concetto che l'elenco dei tipi delle camere crea una classe corrispondente una volta che la classe è creata la posso usare per specificare il tipo degli attributi questo qua non ci interessa in questo diagramma ma in qualche altro diagramma spiegheremo che l'elenco dei tipi della camera in realtà contiene tanti tipi e ciascun tipo conterrà degli attributi che sono il numero ma possiamo anche metterlo tanto ci sta ancora questo elenco tipi camera spieghiamo un po' come è fatto dovrà avere ad esempio per ogni camera non mi piace tanto il nome poi lo cambiamo numero di letti fumatore boolean vista mare boolean diciamo panoramica in generale ma non estremamente il mare perché poi magari se è panoramica la faccio pagare un po' di più e boh altri attributi che ci vengono in mente non mi piace tanto l'elenco tipi camere perché a questo punto questa parola elenco lo cambierei come tipo camera visto che i nomi qua i nomi delle classi li abbiamo dati tutti al astratto singolare qui lo chiamo tipo camera e essendo il tool minimo furbo me l'ha modificato in tutti i punti in cui l'avevo scritto perché non è un disegno sono delle viste su un modello che sto via via costruendo e ovviamente quando dico che la camera è di un certo tipo c'è un collegamento tra queste due classi qui che è il tipo forse bisognerebbe ancora aggiungere qualcosa relativo ai pagamenti perché a un certo punto sia nel caso di prenotazione non espletata sia il caso di permanenza conclusa a un certo punto Tizio dovrà pagare quindi questo pagamento ma qui lo facciamo semplificato perché è tardi diciamo che il pagamento è qualche cosa che è legato sicuramente al cliente è legato alla prenotazione perché effettivamente è da qua che vado a prendere il costo non deve necessariamente essere legato alla permanenza perché la permanenza è comunque legata alla prenotazione per cui quando al giorno fina la permanenza dico va bene no no mi serve in qualche modo perché io devo fare il conto con il costo della prenotazione più le spese esempio di minibar o di colazione che lui ha avuto e sommarle in questo conto però qua non abbiamo adesso il tempo di entrare nel dettaglio dei dati relativi al pagamento di questa parte ma sicuramente è un'entità che ci deve essere probabilmente la parte sul pagamento sul calcolo dei costi meriterebbe un diagramma a parte tanto questi diagrammi pensate che ne potete anche fare di più tanto si sommano a livello di modello quindi non è che dovete far stare per forza tutto nello stesso disegno facciamo dei disegni che sono ciascuno una vista una fotografia un'istantanea di un pezzo di ragionamento che vogliamo far vedere poi la stessa classe la riusciamo in un modello diverso e facciamo vedere altre relazioni della stessa classe e queste relazioni tra di loro si sommeranno tutte all'interno del modello vero e proprio questo diventa poi il dizionario con cui costruire il linguaggio con cui descriveremo i processi descriveremo i ruoli descriveremo le funzioni eccetera non lo faremo mai giusto al primo colpo nel senso che si inizia così poi man mano quando cominci a costruire i processi dici ah mi manca un pezzo allora torno indietro lo aggiungi è un lavoro incrementale su più tavoli ok? alla settimana prossima è un lavoro è un lavoro è un lavoro